E se Di Maio non fosse così fesso, si fa per dire? Cercate di guardare insieme a me la prospettiva da un punto di vista diverso. Ci sono le elezioni regionali, ci sono le elezioni regionali d'Emilia-Romagna che in una ipotesi che non conosco potrebbero vedere vincitore di 7-8 punti il centrodestra. Quindi alle elezioni regionali d'Emilia-Romagna voi dovete immaginare lunedì, sempre che questo avvenga, io non sono un mago telma e non posso prevedere quello che neanche i sondaggi ancora prevedono, e cioè Di Maio, che non si era dimesso, si trova con Conte nella stessa stanza e Zingaretti a dover decidere cosa fare il giorno dopo questa disfatta elettorale. Disfatta elettorale che una cosa è sicura, porterà il Movimento 5 Stelle col suo candidato simpatico, ma totalmente sconosciuto intorno al 5-6%, e un partito democratico che perde la sua regione di punta. Ecco, in quella stanza sarebbero volati coltelli e soprattutto Di Maio avrebbe dovuto giustificare la sconfitta non solo del Movimento 5 Stelle, ma del Movimento 5 Stelle di fatto alleato al governo con l'odiato PD, quello del partito di Bibiano, proprio in Emilia-Romagna, di cui Di Maio tante volte parlò nelle sue inveterate su Facebook. Allora Di Maio, per evitare di trovarsi in questa condizione imbarazzante, di aver fatto un governo che non amava, di aver fatto una desistenza in Emilia-Romagna con un partito che non ama e soprattutto dover giustificare da lunedì una scufitta epocale, allora sai che dice Di Maio? Ma sapete che c'è di nuovo cari miei? Io mi dimetto e mi dimetto prima del risultato delle elezioni, da che mondo in mondo? Ovviamente i politici si dimettono il giorno dopo delle elezioni, non il giorno prima, anzi due o tre giorni prima, se si dimettono il giorno prima forse hanno qualche informazione o qualche timore che noi esseri umani non abbiamo. E quindi mica scemo il ragazzo. Cosa fa? Si dimette prima e fa gestire al bamboccione Crimi, quello che si è tolto gli occhiali, si è messo la barba e si è cambiato fidanzata, e al incaricato Patuanelli, quello che finalmente oggi ha capito che forse col PD ci può essere un'alleanza. Insomma a questi signori, compreso a Grillo, la responsabilità di commentare in televisione la sconfitta non solo del Movimento 5 Stelle, ma dell'alleato di governo col quale loro si sono sposati in maniera, diciamo, come possiamo dire, clandestina rispetto alle promesse elettorali. Ecco, se così fosse le dimissioni di Di Maio, in questa logica che è tutta da verificare di una super sconfitta del PD e del Movimento 5 Stelle, lo renderebbero meno colpevole, ovviamente si tratta soltanto di una foglia di fico perché lui ha gestito il partito, o meglio una foglia di un certo punto, perché in realtà il partito non l'ha mai gestito lui, l'hanno gestito Grillo, Casaleggio e, diciamo, forse il fatto quotidiano. Se così fosse lo capiremo meglio lunedì o meglio domenica notte. Ciao!